Anche noi, rigenerati nel Santo Battesimo, corrispondiamo alla grazia della nostra vocazione, ad imitazione dell'Immacolata Nostra Madre, applicandoci incessantemente nella cognizione di Dio per sempre meglio conoscerlo, servirlo ed amarlo. Pace e bene, fratelli e sorelle. Siamo ormai a metà maggio e continuiamo con le nostre preghiere alla Madonna, le nostre invocazioni, soprattutto con la recita del Santo Rosario e anche atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, perché questo chiede la Madonna Fatima. Non dimentichiamolo che la Madonna Fatima chiede l'atto di consacrazione a lei. Dice, il mio cuore immacolato sarà il vostro rifugio. Dice San Pio, anche noi rigenerati nel Santo Battesimo corrispondiamo alla grazia della nostra vocazione, ad imitazione dell'Immacolata Nostra Madre. Ecco, noi siamo già consacrati al Signore con il Battesimo, però ci vuole anche quest'altra consacrazione o affidamento, chiamatela come volete, alla Madonna. Quando noi ci consacriamo a lei, quando noi ci affidiamo a lei, sapete cosa fa la Madonna? Fa di noi quello che vuole, ma soprattutto lei ci trasforma, ci rende i suoi figli docili all'azione dello Spirito Santo. Allora, ci sarà però, attenti fratelli e sorelle, una lotta, una lotta terribile, che è quella lotta che l'avversario, il diavolo, ci farà, perché lei, lui, combatte sempre le persone che hanno questa bella devozione verso la Mamma Celeste. Certo, noi possiamo star certi e sicuri che la Madonna ci difenderà sempre, verrà sempre il nostro aiuto, sarà il nostro scudo, sarà la nostra salvezza. Ecco, se noi pensiamo, quando Padre Pio era stato spinto dal diavolo, nella cella numero uno, dove si conservano ancora la poltrona dove lui è morto, quel cuscino, Padre Eusebio un giorno mi raccontava che quel cuscino che c'è sulla poltrona della Madonna era stato trovato, Padre Pio era stato riversato sotto, aveva il cuscino e Padre Pio aveva avuto delle ferite sopraccigliari, tant'è vero che lo portarono per fargli mettere dei punti, arrivarono i medici di casa sollievo per mettergli dei punti sopraccigliari. E Padre Eusebio, raccontato a me personalmente, disse questo, se non fosse stato per quel cuscino l'avrebbe fracassato. E chi gliel'ha messo quel cuscino? Dice lui, gliel'ha messo la Madonna. La Madonna lo ha difeso, la Madonna lo ha difeso. Cioè la Madonna è sempre pronta, lì come madre, attenta e premurosa, verso questi figli, verso questo figlio in particolare. E allora non dobbiamo mai dubitare di quest'amore e di questa intercessione materna della Vergine Maria. Guai a noi se dubitiamo di questo. La Madonna ci assiste in ogni momento, è sempre pronta. Ecco perché San Pio continuava a recitare il rosario, il rosario, il rosario, perché sentiva sempre la presenza della Madonna in lui. La sua presenza materna ce l'aveva sempre, come ce l'aveva l'altare, ce l'aveva nella sua stanza la Madonna, nella mia cella, passeggia di giorno e di notte. Ma pensate che bello, pensate che bello. Io quando vengo qui a San Giovanni Rotondo e mi trovo dentro questi luoghi meravigliosi, davanti alla cella di Padre Pio, sento questa bella presenza di protezione materna della Madonna. Nella sacristia grande del santuario Santa Maria delle Grazie, quel bel cuore immacolato che era stato donato a Padre Pio, nella sala San Francesco, sopra, lo stesso, quel cuore immacolato, nel saccellum, l'immacolata. Ecco vedete, Padre Pio è sempre sotto la protezione materna della Madonna. Ecco l'invito che faccio a me e a voi è quello di tenerla sempre con noi la Madonna. Anzi, sarebbe bello portare sempre anche una medaglietta della Madonna, ad esempio la medaglietta cosiddetta miracolosa, portarla sempre al collo, anzi per quella medaglietta c'è la promessa della Madonna, che la porterà al collo con fede, perché non è quella medaglietta, ma è la fede sarà oggetto di grandi grazie di Maria Santissima verso questi figli che siamo noi. Pace e bene.